Non si può certo parlare di caso Saraniti, ma qualcosa che turba il momento del numero 9 rosa-nero c'è ed è evidente. L'attaccante padermitano lo ha manifestato senza tanti giri di parole con un post sul proprio profilo Instagram. Se per un malcontento che monta di settimana in settimana a causa delle ripetute panchine, se per le sirene di calcio-mercato che lo vedono potenzialmente in uscita, è tutto da chiarire, ma tant'è, le parole di Saraniti si traducono inequivocabilmente, in una inedita, fin qui, insoddisfazione a tinte rosa-nero. Ci sono periodi difficili, ma ciò non significa mollare, ha scritto il centravanti sui social. Dalla mia parte o mia moglie e le mie figlie che mi danno la forza di lottare in questi momenti ed io riesco sempre a risollevarmi, specialmente quando tutti vogliono darmi il colpo di grazia. Ma nessuno, credetemi, c'è mai riuscito. Alla fine faremo i conti. Non è una novità che Saraniti sia finito ai margini del progetto tecnico di Roberto Boscaia. 21 in minuti giocati nelle ultime tre partite, 19 contro la Cavese nel primo match del 2021, vinto in extremis grazie al gol di Nicola Rauti. Appena 120 secondi nel K.O. interno contro la Virtus Francavilla, solo panchina nel pareggio contro il Teramo. E intanto Radiomercato accende le sirene. Le ultime indiscrezioni dicono che sull'asse Palermo-Castellammare di Stabbia si stia lavorando ad uno scambio tra palermitani. In uscita da Viale del Fante ci sarebbe proprio Saraniti, che andrebbe alla Juve-Stabbia in cambio di Francesco Golfo, attaccante classe 94 di proprietà del Parma.